Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video! Allora oggi, dopo un po' di tempo devo dire, si, ritorno con un video outfit, un video outfit prettamente invernale, protagoniste saranno le leggings termiche, come avete visto dal titolo, in particolare i leggings termici in vinile, vinilici insomma, che io devo dire sto amando alla follia, uno perché tengono caldissimo e due perché siamo super fashion quindi ecco, uniamo le due cose e wow, da una fashionista come me non si può non adorare, vero, j'adore, cioè non potrei non adorarli, mi sto un po' incartando, comunque! Quindi per me j'adore leggings termici, bene sì, quindi oggi ci saranno ben tre outfit con i leggings termici in due tonalità, un blu stupendo, un blu elettrico e il classico nero vinilico, quindi io spero che questo video vi possa interessare, possa come sempre fare compagnia, strappare un sorriso e ma prima di partire con la visione degli outfit vi invito a iscrivervi al canale che per me è davvero importantissimo e lasciarmi un bel like se il video ti è piaciuto, ma a questo punto ti lascio, vi lascio la visione del video degli outfit invernali con i leggings finilici, ciao bellezze! e partiamo con il primo outfit con i leggings vinilici neri che ho pensato di smorzare un po' l'effetto aggressive con un bel cardigan in stile indianino come sono di tendenza ormai da un anno a questa parte, ho poi abbinato una camicia in seta color nude e un bellissimo secchiello bordeaux che riprende i toni caldi del cardigan in questo caso è un bel cardigan in stile indianino come sono di tendenza ormai da un caso invece ho creato un outfit perfetto da serata in quanto ho indossato il leggings vinilico nero con un bel tacco alto e poi per impreziosire il tutto ho indossato il cardigan con fucsia con i fiocchetti di strass stupendi ecco una bella cintura per definire il look ed ecco qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per proteggerci dal freddo un bel pellicciotto naturalmente ecco pelliccia caldissimo fondamentale grazie a tutti per il terzo outfit ho scelto di indossare i leggings blu davvero un blu stupendo un blu elettrico stupendo con un maglioncino ah beh questi maglioncini iconici con l'orsetto sono favolosi il mocassino che ragazzi per me è super comodo per tutti i giorni davvero perfetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao tesori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti